Buongiorno, buongiorno, auguri, grazie, auguri per i tuoi cento anni. Grazie, grazie. Come li sta vivendo? A posto. Questo giorno è importante per lei? Certo. Sarà festeggiato dai suoi familiari, presunto. Ecco. Un traguardo importantissimo, vero zio Vicenzino? Sì, sì. Per me e per tutti. Tutta la comunità stefanese deve essere orgogliosa del suo centenario. Ok. Grazie. 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 Grazie.